Pescara-Crotone match di cartello della terza giornata, nelle ultime 15 sfide in Abruzzo, 7 vittorie a testa, soltanto un pareggio settembre 2013, Serie B 2 a 2, le scelte dei due allenatori. Colombo lancia tutta dal primo minuto la novità sostanziale delle mona che parte dalla panchina. Problema nel riscaldamento, purtroppo il ginocchio per la Cania, il suo posto ingrosso in coppia con Brosco, dall'altra parte l'ex Franco Lerda, che ha lasciato un ottimo ricordo a Pescara, storia di 15 anni fa, non cambia nulla. Qui si complica la vita Pizzari, proprio all'alba del match, ma poi rimedia con grande coraggio. Poi la prima occasione nitida per il Crotone, lanciato da Gomez, Carbo, non calcia col sinistro ma col destro, dritto per dritto, la palla, non inquadra, lo specchio della porta, difesa da Pizzari. Ancora Crotone, nei primi 30-35 minuti, conduce le danze, il colpo di testa di Gomez sul cross da sinistra di Carbo, debole tra le braccia di Pizzari. Regisce la formazione Biancazzurra negli ultimi 15 minuti della prima frazione, colpo di testa di Brosco su angolo di Craia, la palla bloccata centralmente dal portiere del Crotone. Poi Carbo sul versetto opposto dopo un contropiede, palla persa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. C'è la sterzata di Tribuzzi e il suo sinistro, anche in questo caso debole, nulla o meglio facile preda del portiere Pizzari. Poi sempre nel primo tempo il colpo di testa ancora di Brosco, la palla termina a lato ma era sulla traiettoria. Il portiere Branduani che ha giocato con Mora nella spalla, ha vinto il campionato di Serie C nel 2016. Prova, l'acrobazia, l'Escano, il pallone poi toccato da Mora è stato ancora tra i migliori insieme con Jabba, l'ex spalla. Poi su questo lancio lungo di Craia, la giocata lunga poteva essere un'opzione come in questo caso, viene chiuso l'Escano dal difensore del Crotone Golemic. Siamo ora nel secondo tempo, il Pescara comincia bene, c'è questo tentativo di Jabba, la palla non viene agganciata da Cuppone. E poi ancora Mora, serie di finte, lato corto dell'area di rigore. Era una buona opportunità per i Biancazzurri, deviazione, si riprenderà con un calcio d'angolo senza esito. Poi il tentativo ancora del Pescara con Tupta che viene lanciato, suggerimento di Mora che spezza il gioco avversario. Il controllo è il sinistro che viene murato dall'ex Chieti, Maxime Giron, che lo scorso anno ha vinto il campionato con il Palermo. Il calcio di punizione che decide il match, sfortunata. La deviazione probabilmente di Tupta, c'è chi dice Tupta, c'è chi dice Mora, completamente spiazzato, l'incolpevole Pizzari. L'autore del gol, chi ricopre, insomma, l'episodio che decide il match, un episodio fortunoso per il Crotone. Il Crotone che però aveva destato una buonissima impressione sino a quel momento. Siamo al diciannovesimo del secondo tempo, tutto ancora possibile. Poi il Pescara passerà al 4-2-3-1, 4-2-4, che dir si voglia, con l'ingresso in campo di De Sogus, di Vergani, di Delle Monache. Ancora rivediamo a rallenti la rete di Cosimo Chiricò. Classe 91 lo scorso anno al Padova, quattro promozioni in B. Vediamo ora Giron, siamo sempre nel secondo tempo alla lunga rimessa laterale, come un cross, il tentativo dell'italo-nigeriano Awa, con la palla che sorvola la traversa della porta difesa da Pizzari. Poi Palmiero, entrato anche lì in corso d'opera al posto di Craia, il cross da destra di Cancellotti, la palla che viene respinta. Poi ancora il Pescara, tutto cuore nel finale, negli ultimi sei minuti di recupero, ma non concluderà mai verso la porta di Branduani. A Pescara, Crotone batte Pescara 1-0, primo K.O. in campionato per la squadra di Alberto Colombo.